Perché, anima mia, hai deciso di abitare questo corpo che viaggia così velocemente, privato di meraviglia come un angelo maldestro tra le lordure della vita? Perché, anima mia, di quella pelle indossasti le sue ferite e le sue lacrime e non la pazienza del padre Giobbe? Mi hai gettato su questa sponda di balbuzie, di errori, di grugniti e lente andature. Qui la carne degli angeli si trova nei mercati e la gente comunica in una lingua sconosciuta alla mia tristezza. Perché la possibilità di scegliere questo corpo se la povertà e la nostalgia aderivano già alla sua pelle e la sconfitta come suo unico ed abituale ufficio per appendere il cuore di fronte alla luce del tuo miracolo? Non capisco questa lotta, anima mia, semplicemente non mi allontanare dal corpo di questa donna che ha il sapore di Dio tra le sue labbra e tende i fili della mia pelle ai confini di ogni infanzia dove si parla la lingua prima di Papele.